Oggi qui a Santa Rita si presenta il suo libro, un libro che anche dal titolo ci fa riflettere sulla presenza di Dio. Sì, è un libro che riflette su Dio però alla luce dell'esperienza di Eti Ilesum, questa giovane ebrea che in due anni, dal 42 alla fine del 41 fino al 43, fa un'esperienza umana, personale, molto profonda e in questo periodo storico tormentato dalla persecuzione dei nazisti in confronto degli ebrei, lei, donna ebrea, non solo recupera la fede ma un'esperienza di Dio talmente profonda che ha lasciato il solco perché il diario di Eti Ilesum è uno dei libri più tradotti in tutto il mondo. Questa esperienza così personale, così intima e così profonda, ecco, credo che deve essere ancora letta, capita, compresa a fondo. Perché ha scelto di scrivere questo libro? Ma io ho tenuto dei corsi su Gatti Ilesum e poi pian piano ho raccolto un materiale di riflessione, mi sembrava così pregante, così bello, così importante e per questo motivo alla fine mi sono deciso di scrivere questo testo. Aiutare le persone, aiutare le persone a leggere il diario e a capire più a fondo che cosa questa autrice sostiene. Oggi secondo lei questo testo non è di grande attualità? No, è di grandissima attualità ed è anche in qualche modo un testo che riguarda noi cattolici ma anche gli ebrei, riguarda anche uomini e donne di altre fedi e quindi è un testo sicuramente interreligioso potremmo dire oggi, anche se lei non sostiene una parte religiosa specifica perché lei parla di un Dio, un Dio universale per tutti gli uomini. E noi possiamo accettare un Dio universale? Penso di sì perché dobbiamo anche abituarci a incontrare uomini e donne di altre fedi e quindi lei ci aiuta a avere questa umiltà, questa disponibilità, questa apertura nell'incontro con gli altri. E poi il sacrificio di scegliere di morire anche quando poteva salvarsi e questa è una testimonianza su cui dobbiamo pensare che molte volte per un piccolo dolore andiamo un po' fuori dai termini della nostra vita mentre c'è gente che sceglie di morire e lo fa per amore del prossimo. Sì, questo lei è proprio esplicito, tutti i suoi amici hanno tentato di salvarla fino alla fine ma lei dice no perché se no ci va un altro al mio posto. Lei sente una grandissima responsabilità in questo senso, una serietà di condividere questa esperienza fino in fondo con tutti i partecipanti del suo popolo che vanno a Auschwitz e quindi non si è mai tirato indietro, non ha voluto tirarsi indietro.